I GASI VORTI Gasi vorti ci ne è di due razzi. I più comuni sono i gasi vortificati di forma ritangolare cu' uno o due piani, non da una garciara. La sua superficie è a spesa di 8,95 m, vale di 40 m2 per piano. Sono vorniti di piombatogli, d'archeri ed una scarpa o contravorto. L'intrata maestra è quasi sempre a un primo piano. Abbisugnava una scala da entragi, scala rimpiazzata oggi da un scalone di petra. Ma in ogni paese vecchio c'è anche una o pareti gasitori che si conoscono a sua forma quadrata, circa 6,96 m, con due o tre piani in una carciara, una scarpa e piombatogli pareti che proteggiano i stretti, i porti di un piano di terra e il paesolo. Sono dinologhi da ammirare i gonfini. Sti due bastimenti sono a principio casi di signore o di gentilomi. L'origine di i gasivorti ha trovato la volontà di gli inuesi di far campare i signori e i loro famigli in paesi, invece che di campare in i loro vecchi castelli. Dopo spiantati o occupati questi castelli da i loro soldati e castidani o da un signore i gorsi a favore dell'ufficio San Giorgio, gli inuesi organizzano la faccia di signori potenti, ma sottomissi, in di logo popolati più facili a sorviglia. Piglioni così a suprana non tra i nobuli gorsi. Il pardono l'era dato di zoati passati, patti e condizioni che di gilcompini in pace e senza architettura militare. Ma a parte più animuniti su costruzione di più battodi, calchivolta la piatto, ma spesso con l'autorizzazione di apputenza inuesa. Argumentando di serva di Enua o da aver combattuto a fianco a Edda contro i guccini cinarchesi, domandone i signori o poteri di pudesse protegger da popolazione o dai ribedi sempre in onda po' dopo di puder parla assalti barbareschi. Accanto o vicino a questi gassi vortificati si trova spesso una piccola gappetta come d'era di solito in dei tempi accanto ai vortesi signorili. In 2553 gli inuesi contano i più di 150 gassi fortificati in Corsica con più battodi e archeri. Pigliano e tanta decisione di strudiali, ma un si farà in tutti i luoghi. Sia l'innovato rifletta la botte barbareschi, sia sono stati contrariati dalla conquista francesa di un marischal de Terme mandato da un re a Rigodui. A Gorsica è resa a Genova da Francia in 2559 e tanto i nuovi comissari decidono di farare il potere dei principali e caporali che si comportano all'uso dei cinarchesi mettendo in bado ciò che era stato deciso se è in innanzo. i guerri di San Perugorzo a partasi da 1564 portano i Corsi e i dinuesi a praticare una politica di disguastera che tocca di nuovo le fortificazioni paesane. Malgrato questi danni assai i gasi bruciati o anche guagi spiantati saranno rivati altri non sono stati tocchi. qualche volta anche un esiliato anziano nemico degli Inuesi è autorizzato a rientrare e a fortificarsi o a rifare a Sogasa giurando di un mai più combattere a Sirenissima. E ciò che accade a Federico d'Istria che volta in 2571 dopo d'è combattuto a fianco a San Perugorzo ed è stato privo di azzosignoria. l'è data l'autorizzazione di portallarmi ed è rifasso a casa a Tora di Sudakkarò. Simbolo di potenza come era o gastedo a casa fortificata di a mità del XV secolo era a casa di signori. Tocco XVI diventa anche casa di caporali e principale di paesi. potocco o XVII anche di ricchi neguzienti alfieri nutari o aletti. Longi secoli sono venuti i gas di famiglia ad appiccicarsi a casa forti costrutta all'oro d'un podio e così sono nati tanti gasonati e pedioli. A funzione di a casa fortificata era simbolica difensiva ma anche finanziaria posto che il proprietario con la scusa di proteggere il paese poteva prendere il censo durante la popolazione quando prendere l'Italia o laccato all'uso signorile. A casa aveva in vero da controllare il luogo e il spazio a favore del giò che ci campava e anche di proteggono dall'altro capipartito. I torri di Fuzzà sono bedica con i sciotti una sendo di Carabelli e l'altra di Durazzo. Sono stati i luoghi di avindette di avvamosa Colombo Bartoli a roia di un romanzo di rinome di Prosper Merimè chiamato Colombo.